eccoci qua in questo giorno di neve ora l'obiettivo è andare a fare un pupazzo di neve o meglio una scultura di neve di me stesso quindi farò un'autoscultura di neve direi che starò qui per prima cosa serviranno dei legni per costruire la struttura di supporto un'autoscultura di neve un'autoscultura di neve e 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